siamo qui per virginia scusami aspetta rifaccio bene siamo qui per virginia ciao stefania benvenuti ciao ciao a tutti questo proposito avevo toccato il tasto famoso conto da 51 e ti connetti più in profondità a virginia 5 4 3 2 1 la verità virginia e vedo che a nella mano sinistra la mano destra due bambini un bambino maschio che avrà a quattro anni a sinistra è una bambina femmina che ne avrà due a destra stanno camminando stanno camminando per una via di un paese che sembra un po di campagna dà l'autorizzazione si si gira le autorizza ok questa è una vita precedente questa è una vita è una vita precedente ma potrebbe anche essere questa perché la vedo come adesso con un fullare in testa e con questi bambini piccoli che sono i suoi figli ok io non ho capito se nella realtà virginia dei figli no si tre si ok sono due dei tre figli questi due bambini sì dire di sì 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 ok causa di questa immagine iniziale allora e la vede appunto mentre cammina con questi due bambini e li tiene benesserti per mano perché come se si sentisse di doverli proteggere fanno questa strada insieme ma è come se lei li dovesse portare via da diciamo da un pericolo a cui dire comunque avere la certezza che loro vadano per la strada giusta ecco quindi ecco adesso mi viene mi viene questo che è come se fosse questa vita ma un'immagine simbolica che le rimanda per dire che ha un forte senso di protezione rispetto ai figli e ha sempre avuto molto la preoccupazione che loro prendessero la strada giusta quindi lei che li ha molto protetti molto molto guidati si ok virginia interferenze se la virginia virginia vedo che a 2 dl è uno che c'era ma non c'è più non prevedo che diciamo ritorne nel senso che è proprio andato via che era che era praticamente colui che li suggeriva in questo dl nel passato la voce si la voce la voce la voce di cui ha accennato prima la voce che gli dava dei suggerimenti su delle cose da fare delle cose da dire come si chiama queste dl andato via chiamiamolo innanzitutto perché ha avuto a che fare con la storia di virginia quindi lo chiamiamo e richiediamo il nome la dice che si chiama paolo che si chiama paolo e è un edl che è stato è stato mandato mi dice è stato mandato per guidarla dice così per guidarla ma è stato mandato da come fossero dei dei parenti delle persone che lei conosce perché sembra che le abbia diciamo invocato in quel periodo una protezione ecco si sia affidata a qualcuno oa qualche diciamola così qualche tanto insomma e quindi è stata data questa assegnato queste dl per quel periodo lì in cui lei ha avuto paura intanto per la gravidanza e quindi in due o tre occasioni le ha fatto da suggeritore ok questo paolo sa chi siamo noi adesso sì prima no prima nel posto da cui prima non direttamente nel senso che non pensavo neanche che sarebbe stato chiamato però sta sapeva che dovevano andare via che doveva stare solo per un periodo può andare via proprio per non essere non essere visto non essere catturato diciamo così ok che grado è paolo mi hai detto dice grado è che ci sono delle lettere e dei numeri una lettera un numero sai più o meno come funzionano i gradi e no la lettera più bassa tipo la z è il grado più alto la lettera più alta la ab è un grado basso il numero invece un 30 m e più e più pesante più grave di un due numeri è normale ma di fatto quello che conta è la lettera ma se a me quando è detto lettere numeri mi è arrivata una c e quindi niente di che però è una voce che dice a virginia quando in macchina gira a destra e non a sinistra quando lei si chiede dove deve andare che all'ospedale quando ha una gravidanza extra uterina dice delle cose dice delle cose che sono che aiutano virginia in cambio cosa da cosa prende e in cambio prende l'energia di virginia c'è con il momento in cui lei ha iniziato a diciamo così pregare in questa situazione la vedo pregare per essere protetta non direttamente dalle dl ha sentito questo richiamo questa preghiera questa invocazione ed è arrivato ed è arrivato di contrapeso lui si prende le prende l'energia della dell'emozione legata alla preoccupazione no nel momento in cui lei invoca è in una condizione e proprio di questa che si nutre si è nutrito nel tempo in cui è stato con lei ok gli altri due dl che fanno gli altri due dl sono uno la vedo che a volte su di lei a volte nella casa quindi comunque nel suo circondario e lente preferisce e anche questo è legato non è diciamo non è nella categoria suggeritore se vogliamo dire così ma ma in ogni caso agisce su di lei e si prende una parte d'energia in particolare quando lei è ancora molto collegata al pregare al chiedere al desiderare di essere guidata per cui questi dl non non le lei non sente la loro voce però è come se attivassero una parte le facessero credere di che ha avuto una buona intuizione anziché quindi sostitui si sostituissero al dialogo che lei potrebbe avere in realtà con la essere quindi avere dei messaggi delle risposte da se stessa loro si sostituiscono si mettono nel mezzo tra lei e il collegamento con la sua anima la sua parte che sa ok entrambi gli adl altre entità e tiri che ci sono ma io quando lei parlava spiegare punto e visto felinoide che in termini che interferisce che interferisce e è presente può essere appunto uno per cui lei a questi attacchi legati ai cani dai cani da parte dei cani c'è la percezione di una di un'energia felinoide come si chiama il felinoide ne arriva questo nome che è raptof 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 con la p e latte ok il felinoide 2dl poi e poi basta poi vedo delle entità mentali vedo delle entità mentali una in particolare che la vedo di una di grado 2 di livello 2 e un'altra di livello 3 sono relativamente basse una è legata al fatto di già chiedere aiuto esterno cioè aiuto esterno ad affidarsi a qualcuno delle credenze mentre invece l'altra è legata alla preoccupazione si quindi lavorano in coppia come se quando quella rispetto alla preoccupazione da da una spita dall'input si attiva anche l'altra parte c'è nel senso che agiscono proprio insieme e poi ci saranno sicuramente delle entità mentali collettive qualcuno le chiama e gregore qualcuno le chiama credenze il calcio è un entità mentale collettiva anche soltanto un vizio ce lo dovrò pure avere un entità mentale collettiva bene i rumeni hanno un entità mentale collettiva perché virginia è rumena e questo è sicuro aiutare gli altri pensare agli altri parlare degli altri mai di se stessi questo io ci picchio fino a che non lo capite cari amici rumeni è un grosso enorme problema ostacolo si virginia è giusto che tu fai sicuro la testa però poi devi farlo davvero perché metà dei tuoi punti si parlava dei tuoi parenti che i suoi parenti hanno il loro percorso fanno quello che vogliono tu passi il tuo tempo a preoccuparti per gente che di te che a te non ti ascolta e non ti deve ascoltare per forza farà le loro le proprie scelte tu devi dare un suggerimento non preoccuparti per se di suggerimento non ha un seguito continui per la tua strada vediamo la voglio proprio rivederla perché l'abbiamo già vista questa entità mentale collettiva aiutare gli altri se la veda come fatta descrivi c'era stefania allora l'immagine che a me arriva e come ti guarda è come di un campo tipo un campo militare dove dove ci sono appunto delle siamo delle barelle anziché è come un campo militare in situazione di emergenza vedete questa scena qua mi devo questa scena qua quindi come se ci fosse questa questa entità collettiva è come se desse segnale e il rimando che c'è sempre un'emergenza rispetto agli altri c'è sempre che quando c'è qualcuno che non sta bene dice che non sta bene noi lo immaginiamo così è una cosa grave quindi bisogna andare proprio ad agire ok ma se l'immagine che mi arriva se è una cosa circolare come una cosa rotonda me lo vedo come fosse un come fosse un disco con un'immagine impressa sopra che quando c'è sti collega a a quell'entità collettiva chi è collegato con l'entità collettiva a questo questa migliora di fargione scusami gira un file un po grammino che ti fa venire l'occupazione prima mappa sì 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 ma preoccupazione a livello di emergenza come fosse sempre un'emergenza ha assolutamente assolutamente urgente quindi noi si passa in secondo piano è più urgente hanno bisogno ok vediamolo un qualunque caso in cui virginia penso in tanti momenti della sua vita ha pensato a qualcuno ma un figlio a che questo vuol dire che i figli buttarli fuori fuori casa a due anni non devo pensare a te dopo saranno stessi non vuol dire quello ovviamente però lei magari va dei grossi problemi e ha scoperto le sessioni e voleva che per esempio il marito facesse lo stesso percorso suo e si è molto adottata per far capire queste cose al marito poi alla fine perdendo il tempo perché marito e frega niente e io quando hai detto vediamo una situazione in cui no a meno che tu non voglia che veda questa del marito a me è arrivata un'immagine di un figlio che si era fatto male ma che si era fatto male io quello che immagine che mi arriva lievemente come fosse un piede come fosse un dito da un piede una cosa che poteva essere dolorosa però non grave non da pronto soccorso non da e questa cosa le ha creato molta preoccupazione anche se non l'è stata presentata come ho perso un dito anziché ma come mi sono fatto male e l'è scattata subito questa parte di preoccupazione come se legato a questo male in questa zona del corpo che io rilevo più come un piede potessero esserci delle conseguenze gravi e chissà in quali altri punti del corpo in lei in termini energetici che succede allora parte come un impulso alla testa quindi le arriva una notizia oppure lei pensa ad un parente un amico un vicino cioè più qualche rispetto a chiunque questa cosa non solo rispetto alle persone care come fosse una delle cose nell'acqua no dei cerchi nell'acqua chiaramente il primo raggio sono dei parenti estretti quindi figli il marito poi si dirama però comunque la preoccupazione si estende se non la tutto il mondo quasi anche i cani che cercano di attaccarla cioè paradossalmente no non urlo troppo forte non li voglio spaventare perché poi poverini ecco così per cui lei succede che c'è questo evento che può essere comunicato dall'esterno oppure un pensiero suo rivolto a qualcuno che inizia a preoccuparla è come se questa cosa iniziasse a partire dalla della testa della mente e poi scendesse in tutto il corpo passa da qua va avanti qua quindi la preoccupa dal punto di vista emotivo e scende giù quindi a una presa su tutto il corpo anche a degli effetti rispetto ai reni e rispetto al fegato cioè anche gli organi interni hanno si preoccupano diciamo così e poi c'è questo perdere energia fino ai piedi come se in effetti la preoccupazione che parte come preoccupazione avesse un effetto su tutto il corpo ma andasse scaricarla di energia quasi completamente prima lei va a sanare la preoccupazione quindi il telefono o va direttamente di persona quando è finita quella che lei ha vissuto come emergenza a questo calo questo completo di energia per cui lei si deve colicare cioè non è come fosse una batteria scarica così molto interessante batteria scarica attenzione virginia poi questa sessione te la riguarderai bene magari la fermi se qualche parola che non capisci la cerchi o cose così mi interessa molto la cinofobia paura dei cani c'è una entità mentale collettiva sospetto sì 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 c'è un'entità mentale collettiva che si va allacciare alle sue entità mentali della preoccupazione e del chiedere aiuto quindi si incastrano perfettamente con quello che la quelle che sono le sue entità mentali quello che vedo rispetto all'entità mentale collettiva e io non posso difendermi cioè e rispetto ai cani ma anche rispetto ci sono delle di parallelismi rispetto e care rispetto anche ma anche delle volte i gatti quindi animali che possono attaccare senza preavviso diciamo che rispetto ai cani c'è questa cosa chi è collegato a questa entità mentale non non pensa di potersi difendere quindi è come se per forza dovesse subire un attacco non fosse fosse spettatore ma non fosse protagonista quindi non avesse possibilità di interazione con la paura sicuramente neanche con l'animale ma anche fosse rispetto un cane piccolo quindi che abbaia ma che viene rilevato come un pericolo perché rispetto a questa paura non la dimensione poi alla fine non c'entra chiaramente la paura aumenta rispetto può aumentare con la dimensione del cane o con o con la voce più forte però comunque c'è anche rispetto ai cani piccoli anche solo che si avvicinano abbaiando per cui proprio pregata come fosse l'impossibilità di reazione a quello che si sta vedendo come vedi il collegamento con entità mentali collettive non le entità mentali di virginia perché la 2 e la 3 anzi ma anche con queste il collegamento con la mente con le due entità mentali di virginia con virginia fisica visivamente come le vedi c'è solo ci sono solo i due dl che vanno su e giù e quindi quello il collegamento c'è anche un filo c'è anche un canale c'è anche un un'onda una luce com'è quindi me stai chiedendo da quella collettiva alle inutazione quelle singole personali diciamo a lei e poi vediamo quelle collettive a lei prima partiamo da quelle personali ok la metafisica google allora quelle personali io le vedo come tele così come fossero diciamo posizionate intorno alla testa possiamo dire nuvolette possiamo dire cerchi comunque delle delle cose che sono estranei diciamo al suo corpo e come dei tentacoli come dei tentacoli piccoli ecco come come delle radici delle radici di piante ma piccole quindi non le radici di alberi delle piccole radici quando iniziano a crescere ecco quindi hanno una parte di rametto e poi delle piccole diramazioni che incominciano poi a crescere no piccole diramazioni che sembrano dei filini così si collegano a lato ok e con degli impulsi quindi vanno molto elettrico esatto non agiscono sempre loro sono lì inserite nella parte tecnica e poi ogni tanto danno l'input come nelle in effetti di un input elettrico e io lo vedo azzurro blu azzurro blu tua descrizione mi ricorda molto quei pesci di di grandissime profondità che hanno per muoversi nel buio totale hanno delle capacità dire alla capacità di realizzare delle scosse elettriche che illuminano i paraggi vedono il nemico cioè il predatore o la preda e quindi si comportano di conseguenza ea volte hanno proprio questo corpo che viene ogni tanto illuminato con tutte le dische si vedono le dische improvvisamente da queste cose di energia elettrica e poi no poi nel buio più totale torno siamo una cosa del genere se mi fa venire a mente che quando è che c'è la scarica elettrica quando c'è un evento esterno c'è un evento esterno a cui bisogna reagire così l'evento esterno può ad esempio essere una chiamata di un parente un chiama una chiamata che gli dice una qualsiasi cosa non necessariamente sto male lei questa mini scarica elettrica rispetto a quello della preoccupazione e lei inizia a preoccuparsi quindi a rilevarlo come un problema anche se una chiamata normale di un'amica che le dice sto prendendo il caffè lei in lei inizia a instillarsi venire in mente la possibilità che non le abbia detto di non star bene che ha sentito dal tono della voce che invece magari non è come le ha detto e che c'è qualcosa che le sta nascondendo e che quindi deve venderla trovare per verificare così quindi l'impulso arriva in base alla condizione esterna che con cui lei entra in contatto così la mese la connessione invece con le entità mentali collettive come la vedi modo analogo in modo analogo si partendo le vedo più dall'alto per cui come fosse un grande disco un grande una nuova la seconda che le manda dall'alto verso il basso questi filamenti però ecco se la vedo come una nuvola la vedo come pioggia nel senso che non ha bisogno di ma in base alla situazione esterna e di mandare dei delle scariche e come se costantemente ci fosse goccia 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 che sempre andasse a a bagnare il terreno con il terreno mentale di questa cosa qua di questa della cosa che relativa all'entità mentale collettiva ci sono solo questi due entità mentale collettive collegate a virginia cinofobia aiutare gli altri ma ce n'è una che è perso e personale ma anche collettiva ma me la vedo molto più collegata all'aiutare gli altri è come se fosse un dischetto all'interno del disco grande io devo aiutare gli altri come fosse un sottoprogramma e che è relativo al io devo aiutare gli altri ma nessuno mi aiuta quindi io per gli altri ci sono lo devo fare perché perché mi sento obbligato a farlo altrimenti sto male però non sono corrisposta è il classico dei classici dei classici dei cliché della donna di una volta no la donna che si spende per la casa e che viene maltrattata dal marito i figli dicono come cucinato male che schifo in quello che hai fatto ma qui sempre sporco classico dei classici dei classici chi ha detto che la donna deve gestire la casa e la casa non viene gestita in equi parti da tutti chi ha detto che la donna deve cucinare chi l'ha detto la vecchissima antichissima e superatissima struttura sociale per cui l'uomo andava nei campi e lavorava la donna teneva il focolare domestico non c'è più non c'è più da secoli non c'è più chi l'ha detto perché la donna non può essere al pari dell'uomo chiede cioè queste sono entità mentali collettive forme mentali che poi abbiamo creato noi anche la creati pinco pallino che ha passato ha detto che ho la solita entità cattiva che alla fine siamo noi che le creiamo le entità cattive perché non ho bisogno di incanalarci in una direzione per fare l'esperienza di l'importante fare l'esperienza poi virginia dopo questa sessione può continuare se lo decide a questo punto di fare l'esperienza di occuparsi degli altri di essere non considerata dagli altri ma almeno lo sa lo sa che consapevolmente sta facendo questa cosa l'ideale sarebbe stopparla e dire ora cambia tutto figlio caro la colazione te la prepari da solo sei grande abbastanza marito caro bla 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 questa è una mia piccole cause esoteriche vediamo se ci sono degli impianti mentre vediamo le cause esoteriche brufoli sul naso potrebbe anche non esserci alla causa esoterica allora rispetto alle cose che ha detto io vedo delle cose collegate che hanno la stessa causa allora dunque mi puoi nominare i brufoli al naso poi una schiena di schiena può essere il lavoro no la nausea la nausea lo occupo respiratorio e cali di memoria e la frattura allora ok allora brufoli al naso ricorrenti la nausea e cali di memoria sono collegati io li vedo a come fosse un'intolleranza intossicazione alimentare allora sono collegate due cause sul piano fisico sono collegati al fegato sul piano eterico sono collegati alla preoccupazione ok quindi come come sono collegati al fegato allora perché sia la parte legata al naso brufoli al naso che il discorso della nausea che il discorso della memoria sono collegati a una cattiva non tanto creativa di gestione ma cattivo assorbimento di alcuni elementi che lei accennato al discorso delle mandorle ma è legato anche al discorso delle farine per cui dovrebbe iniziare a farci caso a questo io glielo rimando come come messaggio ma lei quando da quando finisce la sessione dovrebbe incominciare a far caso e da dare a depurare quindi inizialmente verificare mangiandone verificare questa questo stato fisico che va anche a scaricare l'energia anche una parte di quello è come se le farine in parte la frutta secca un po in generale nel suo caso quindi anche le noci le fanno con l'effetto di e farinacee quindi la farina bianca a lei fa fa quell'effetto di non tanto del naso quanto della della anche delle memorie nel suo caso è come se andasse un po intossicare la parte della della chiarezza mentale e la parte della preoccupazione anche lei agisce sul fegato più che la parte le entità mentali collettive quel sottodisco che dice e nessuno si occupa di me va anche quello ad agire sulla parte fisica del fegato e crea come un'intossicazione quindi dovrebbe per evitare questo effetto qua fisico di queste tre cose fare attenzione a sia la parte mentale di dico smettere di preoccuparsi cioè nel senso di fare attenzione che quando si preoccupa a questo effetto a questo effetto sulla nausea sulla memoria quindi andare proprio a disintossicare questi due aspetti la schiena la vedo invece legata a al discorso lavorativo come parte fisica e al discorso di nuovo devo fare tutto io per gli altri come parte eterica diciamo causa esoterica causa e c'era un'altra parte che era del polso giusto polso il polso abbastanza importante perché si è fratturata il polso è stata una cosa piuttosto lunga già un tolto insomma i punti ma rimane ancora abbastanza dolorante e penso le impedisce di lavorare no giusto virginia più o meno di fare destro brava se il polso destro giusto allora quello che vediamo posso chiedere se lucio può chiedere a virginia se mentre io sento il polso destro lei si tocca così il polso destro diciamo se un gelatore se lo sta toccando ok allora io li vedo come se dalla spalla destra a fino alle dita del amara sopra come uno strato come fosse un sovrastato mi verrebbe da dire un guanto ma è come se fosse una manica alla prima finale dita che va a coprire una malica ma la malica di una ma scusa sì 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 perché c'è una connessione un po scarsa da così una volta che a volte ti sento perfettamente a volte un po meno perfettamente prova anche alzare di più qua mi senti sì 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 meglio come fosse una manica facciamo conto così che comprende le dita e va fino alla spalla destra che come se fosse una sovrastruttura eterica che va ad impedire bene i movimenti quindi fluidamente i movimenti e come se però questa è la parte del polso si è manifestata negli ultimi anni però la parte del braccio come fosse una resistenza a occuparsi di ecco la identifico così ok perché fa ancora male le fa ancora male e come se fosse un solo pianto diciamo che riguarda tutto il braccio però le fa ancora male perché è come se lei avesse deciso che non si deve non deve fare tutto lei non deve occuparsi di tutto lei però non riuscita a metterlo in atto quindi quando le fa male quando le fa male non le succede qualcosa questo polso e perché è come se il suo corpo e la sua ps le adesso un freno rispetto a mettere in atto l'aiutare gli altri soprattutto in casa e questo è soprattutto il rispetto alla famiglia no le mette un freno come dire adesso lascia fare agli altri adesso lascia che se ne occupino gli altri è come un ricordo un ricordarli che però lei lo bypassa perché non vede l'ora di guarire perché cerca subito di darsi da fare anche se è male continua a lavorarci sopra e quindi non non è destinata a passarle se mantiene questo modo diversamente se prende consapevolezza che è uno stop per lasciare che gli altri facciano quindi poi sta suo marito i suoi figli e di questo stiamo parlando allora lei può guarire totalmente si sente virginia in questo momento un po presa in castagna cioè mi hanno scoperto sorride ride però secondo me non hai molta intenzione di cambiare questa situazione vero virginia la trovi come una cosa buffa ma le cose stanno così e no le cose non stanno così potresti cambiarle se tu lo volessi lo devi volere tu vedere che in ambiente ipnotico ed ambiente eterico le cose sono proprio come tu più o meno le stavi sospettando perché fai un sacco di sì con la testa quindi le sai le cose la situazione è questa non è sufficiente è giusto che dopo l'analisi la seconda analisi quella successiva ai tuoi giusti le tue giuste intuizioni tua poi abbia una una reazione da domani inizia a insegnare a cucinare ai membri della tua famiglia devono cucinare anche loro ma è così è così ok cause su tecnica della segno intanto chiamiamo nel cinema così che vedano tutto quello che è già stato visto e tutto quello che vedremo da adesso in poi il marito e la cognata la cognata è la sorella del marito sì ok ci sono sono arrivati insieme a braccetto chi è la più interessato o il più interessato allora lei è curiosa lei è curiosa di vedere cosa succede gli hanno parlato di questo di questo lavoro quasi fa già di questo tipo di lavoro però è scettica per cui guarda è venuta perché vuole un po vedere un po con un modo di sfida diciamo così vedere se veramente e come gliel hanno raccontato e lui c'è il marito che è un po trasportato nel senso che è arrivato ma non è molto interessato cioè non è partecipe come fosse protagonista di come se l'avesse deciso lui ecco però ci sono tutti e due e ci sono i figli tutte e tre figli una figlia e due figli ma io vedo anche dei degli amici dei figli nel cinema questo è il momento di maggiore gioia di virginia siamo sempre lì sì vergine però lo sai no pensare agli altri dovete essere veramente contenta quando pensi a te stessa non agli altri non ce n'è uscita da questa cosa è difficile i rumeni sono legati a quella cosa lì non ce n'è non ce n'è sono duro sono vero come diceva jennifer lopez i'm real che ha rotto le palle con questa cosa i'm real per tutto un album e poi l'antica mandata a quel paese ha detto ok basta beh una battuta ogni tanto ci vuole no? eh sì ok bene voce in testa l'abbiamo viste uracane e cinofobia l'abbiamo vista il cinema l'abbiamo fatto i causi esoteriche dei vari problemi tra cui la frattura al polso molto interessante l'abbiamo fatto c'è una causa esoterica alla separazione del 2017 dal marito immagino e da questo marito dal primo non lo so in realtà ti sei separata virginia da da tuo vecchio marito no hai avuto due mariti no sì sì e no 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 attivarlo no 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 diciamo la separazione perché poi devo censurare l'audio ok va bene ora solo se nel 2017 c'è una separazione c'è una causa esoterica che un telefono questo non può scrivere ok la guarda io vedo a questo marito quindi a un ex marito tuo marito ma infatti io stavo dicendo questo che io vedo che c'è che al di là che le si riferisce al precedente questo io vedevo una rottura con una rottura con questo nel senso che non una rottura dei rapporti ma un allontanamento un allontanamento fisico e emotivo ma quello fisico era già avvenuto anni prima cioè nel senso che c'era già anche motivo in effetti c'era stato già un distacco era già da qualche anno che c'è un distacco del marito sul piano emotivo perché non si sentiva capita non si sentiva aiutata come dicevamo e lui in effetti non ha fatto neanche niente per contrastare il pensiero quindi per andarle incontro ce l'ha fatto poco diciamo così non ha soddisfatto quello che erano le sue necessità o lei non se le sentite soddisfatte ecco per cui vedo questo distacco vedo due caratteri molto diversi o meglio calzanti perché lei ha sempre avuto appunto questa idea di dover aiutare gli altri doversi dedicare totalmente alla famiglia e al marito e lui ha sempre avuto l'idea di dover che la moglie dovesse completamente soddisfare le sue necessità quindi erano calzanti però poi lei ha cambiato idea nel senso che non lo mette in atto il fatto di far sì che ognuno faccia le sue cose però a questo il desiderio che questo avvenga e il desiderio è andato a cozzare con la concretezza con la con le necessità di lui quello che lui costantemente chiedeva che venisse fatto anche in modo spesso autoritario molto spesso autoritario va bene chiamiamo i disincarnati i genitori in primis i genitori poi come facciamo di recente visto che apriamo il portale aureo intanto lo apriamo i genitori saranno quelli con cui noi dialoghiamo vediamo cosa hanno da dire come li vedi e poi chiamiamo senza dettagli tutti i disincarnati legati a virginia di questa generazione di tutte le generazioni che si presentano seconda terza quarta quinta solitamente arriviamo alla quarta generazione più indietro difficile perché una soluzione l'hanno trovata dopo tanti secoli il disincarnato anche se non ha tempo diciamo che dopo tante cose che è rimasto qui sulla terra e dopo tante cose che ha visto sotto i suoi occhi ha detto forse che me ne devo andare l'ha capito diciamo vede i suoi genitori vedo prima di tutto suo papà c'è di fianco sua mamma sono ecco la vedendoli posso dire questo che lui è simile a suo marito o il suo ex marito come modi è padre il padre è simile come modi nel senso che l'aspettativa del padre va identica l'aspettativa del marito per cui è già avuto quel modello familiare quasi quasi uguale e la mamma rispondeva perfettamente alla necessità del marito cioè nel senso lei faceva quello che dovevo quello che lui voleva ok la mamma di lei e la differenza è stata che in qualche modo lei su qualche piano si è rivellata questo modello non totalmente ancora non totalmente sul piano fisico ma su un piano eterico emotivo emozionale lei già non accetta questa cosa mentre invece i suoi erano così infatti li vedo come lui parte più dominante lei la mamma un po più così con le mani messe così così un po così come dire se posso parlo e aspetta che in qualche modo le diamo il permesso o il marito le diamo permesso ecco proprio per dirla quindi possiamo farle parlare cioè li chiediamo no ok cosa vogliono dire allora il papà è dispiaciuto da quello che voleva parlare da subito ed è spiaciuto perché sa che durante la sua esistenza con la figlia di non essere stato un buon padre diciamo c'è di non essere stato il padre di cui le aveva bisogno che avrebbe voluto a vedendo adesso avrebbe voluto potuto abbracciarla di più avrebbe potuto aiutarla di più sul punto dal punto di vista emotivo ma lui non era non era in grado nella vita non era in grado non è stato in grado ed è dispiaciuto perché questo ha fatto sì che lui lei continuasse il suo percorso molto insicura molto insicura e quindi è molto dispiaciuto le vuole bene le ha voluto bene ma non ha non ha saputo dimostrarglielo nel modo in cui lei aveva bisogno per la madre e la mamma le dice che le vuole tanto bene mentre parla a questo gesto qua un po d'ondola ti voglio tanto bene così alle mani da giù le ha portate su verso il cuore è un po così come un gesto che probabilmente mamma la mamma e da mamma che lei faceva quando voleva bene quando dimostrava affetto a qualcuno no come stringere a sé simbolicamente qualcuno faceva così e quindi che le vuole tanto bene che contenta di vederla qua oggi di vedere che fa questa cosa oggi è contenta e contenta anche i figli devo dire sono contenti al di là che siano se non nel cinema però li sento contenti adesso che la mamma ha detto questo ho avuto il collegamento e che è di imparare della sua esperienza di imparare della sua esperienza c'è di non ripetere la sua esperienza in questo senso qua familiare dice che lei virginia è stata una buona figlia cioè è stata una figlia che ha obbedito che ha seguito le regole che quindi è stata non ha dato nessun problema nonostante si è cresciuta così in quel contesto lì però dice che i suoi figli hanno bisogno hanno un altro carattere da lei hanno bisogno di essere seguiti sì come lei ha fatto però sono più indipendenti di lei cioè e quindi che deve appoggiare può aiutarli ma deve anche appoggiare la loro indipendenza le scelte diverse che hanno fatto già che lei non ha tanto apprezzato virginia e che però deve deve spronarli deve aiutarli a anche dove le scelte sono diverse da dalle sue questo questo è quello che dice la madre la mamma e non è legge no 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 non è legno sono consigli di un disincarnato che ha fatto un'esperienza che ha sicuramente delle interferenze e lo spiritismo tutte le volte lo dico basava il proprio coro nel fatto che gli spiriti ne sanno più di noi e ci danno dei consigli e noi facciamo quello che ci dicono i spiriti no noi facciamo quello che ci pare ci connettiamo col nostro no sei intimo che è la parte subliminale ed eterica che siamo noi non è quella siamo noi la fine e facciamo quello che dobbiamo e vogliamo fare non ce lo dice la mamma disincarnata bello messaggio ok prendiamone atto di fatto è corretto secondo me ma ne prendi atto perché è quello che ti dice la mamma di bello e di divertente ti voglio bene se è stata una brava figlia o questo va bene poi i consigli a mio avviso li prendiamo così come sono e e ne prendi atto perché la mamma non penso che abbia avuto un'esperienza di vita tale da dover dare dei consigli cioè nel senso non è un'arrivata no le stessa non è riuscita a fare quello che sta consigliando ecco e poi è un'esperienza di vita della mamma quindi va bene portale aureoli salutiamo tutti dimmi solo più o meno a grandi linee quanti vanno oltre a questi due quanti vanno via 5 10 20 100 mila ne vedo e ne vede un centinaio che passano beh sì ho anche parenti del papà parenti del papà ce ne sono parecchi ok non l'abbiamo visto all'inizio lo vediamo adesso ma comunque in base ai valori dell'inizio vibrazione di virginia vedo 140 miliardi per centuale di consapevolezza 130 per cento psp ps45 e p e 55 vite precedenti vedo 2560 percentuale utilizzata di cervello metà 5,6 va bene andiamo al cluster e davanti a me e davanti a me e sta deciso di far sparire tutto e di farlo con la mano destra cioè con la mano destra guarita col polso destro guardito ha deciso di farlo facendo vedo che come se facesse ruotare ma intanto vedo vedo come fosse un padiglione un posto molto grande come una tenda molto grande e vedo che ci sono come degli spalti quindi degli spalti con con delle delle sedie dei posti a sedere per vedere lo spettacolo no e ci sono appunto queste sedie come come sopra una scatoletta ma ci sono una decina di scatolette che sono sparse in tutto in tutto tutto questo capannone lei come se avesse preso un rullo di pietra pesante e passasse sopra quindi come a schiacciare proprio asfaltare tutto schiacciare e poi lo fa con la mano destra così colpa della mano destra per spazzare via tutto ma anche il capannone ok si lei si è già creati i ad eterno quindi lo sa fare vediamo come se ne crea uno lei lo visualizza nel senso che guarda in un punto dove c'era il capannone prima per dire del punto più alto guarda in quel punto e la fa comparire non ci crederai ma l'ha fatto proprio in diretta anche se avrà il riquadro censurato e se chiede gli occhi lei lo realizza ottimo questa è la cosa più bella in assoluto di tutta la sessione lei che crea delle cose per se stessa lasciamo gliene creare uno e da lasciare qui nel cluster andiamo a vedere com'è il l'avatar allora l'avatar sappiamo che sotto almeno come lo vedo sotto è fatto come una carta c'è una cosa bidimensionale si base per al bidimensionale ma schiacciato quindi come non avesse la profondità io lo vedo così sotto e sopra invece a una maschera come avesse una maschera quelli da clown con i capelli finti dietro quelle di di lana proprio così di di lana di lana di lana quei fili di lana dei fili viola li vedo così e come avesse davanti questa maschera da cloud e quelle quel sorriso con le labbra banana sì su a banana rosse si propone una maschera da clown vedo anche addirittura le scarpe fatte così con le bombate con le marrone si è messo si è travestito allora allora ha messo una d'eternum sopra il clown sopra l'avatar l'ha messo prima di spazzarlo via comunque la voglia l'ho voluto metterli sopra e poi la ha fatto questo gesto qua come di dall'alto al basso ma se la d'eternum andasse andata profondasse sì 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 a mettersi sottoterra come una radice come un tubero sì 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 però usato la d'eternum praticamente con la spinta della d'eternum ha usato quello per dare più forza con questa nuova condizione c'è ancora ci sono ancora le due entità mentali il felinoide raptors 2 dl più 13 dl paolo il terzo gli impianti eventuali abduction eventuali cloni no e devo dire che è come se quell'entità collettiva mentale quella rispetto cani e rispetto al devo aiutare gli altri come se ci fosse un ombrello permanente che poi lo possiamo definire anche una d'eternum come se facesse l'effetto di un ombrello permanente su cui non da cui non passa niente per cui anche se ci fosse questa pioggia relina che tenta di passare va a proteggerla vedo così lasciamo la vedo libera da tutto lasciamo altri facciamo altri 6 ad eternum chiediamo a lei di fare ovviamente uno lo mette nel suo corpo fisico dove lo mette lo mette qua in centro quindi sotto il petto nel plesso solare e lo vedo che sta andando irradiare come come dei raggi di proprio di sole tutto il corpo quindi si va proprio espandere così a raggio è veramente divertente perché quando tu dici lo mette nel plesso solare lei ha già le mani sul plesso solare da tempo nel corpo mentale il corpo mentale lo sta mettendo qua all'altezza della testa e all'altezza delle orecchie e lo mette lì credo che lo metta lì perché non vuole più sentire suggerimenti dall'esterno anche lo stesso che ho fatto nel video lei ha messo le mani come ha mostrato nel video vicino prima che tu lo dicessi vicino alle orecchie come come quando fai marameo no marameo fatti le posizionate proprio lì corpo emozionale al posto di quale emozione negativa che c'era prima o in quale zona allora al posto della preoccupazione io lo posso collocare dall'altezza del fegato cioè come se questa zona fosse non so se si vede questa zona qua fosse quella in cui lei lo mette ma in particolare l'emozione quella della preoccupazione passi venire se il fegato amaro essere molto preoccupati per qualcosa sì ok bello grande questo è subliminale ed eterico il sesto lo mettiamo in casa poi lei può metterlo in tutte le stanze ma questo simbolico che tra l'altro basta e avanza uno in una casa perché è una cosa se uno lo realizza bene è potente è un sole non bisogna metterlo e a cameretta anche nel giorno in cucina basta uno lei dove lo mette io ne vedo uno che non so se i figli vivano ancora con lei però io vedo ancora come fosse una stanza con dei letti mi sembrano due letti e non so vedo che lei decide di posizione al 2 ad eternum dove stanno i figli dove dormono i figli e dove comunque vanno spesso quando la vanno a trovare se non dovesse vivere più con lei però io ho la sensazione che loro vadano spesso lì ancora quindi probabilmente ci vivono come se vedessi due letti singoli ma due letti e lei decide di metterlo lì come se quello avesse la funzione di proteggere diciamo così vuole darle questa valenza al posto suo un posto della casa che è totalmente solo di virginia non lo so una voodoo are dove lei si trucca dove si mette avoli in un tavolino per definirlo un tavolino un angolino dove lei legge scrive guarda fuori dalla finestra nessuno si non è suo però nessuno tranne più o meno tranne lei ok non vuole metterlo lì una d'eterno ma lei vuole avere la possibilità di metterlo di lei essere circondata da una d'eterno nel senso che doveva dove andrà ci sarà questo quello che è la sua il suo pensiero vorrebbe fare così quindi qualunque posto in cui si siederà sarà il suo posto cioè non più relegarsi non più limitarsi a un posto una cosa che è sua che solo sua ma iniziare a prendere spazio in casa questo dice benissimo nuova vibrazione vedo 180 miliardi 190 anche 190 miliardi nuova consapevolezza dove si 100 per cento il rapporto anima spirito adesso vedo un 60 65 di anima e cora 35 di dp e vite precedenti 1500 il percentuale di cervello utilizzato vede 6 per cento adesso poco di più ma messaggio finale della ps della pia di virginia a virginia intanto allora le vedo vicine diciamo alle due parti le vedo vicine ma come se fossero uniti da un'unica sfera intorno come a voler dire dimostrare che sono che sono una parte sola ma anche che hanno iniziato a lavorare insieme quindi quello che da qui in poi se virginia si allinea c'è no che proprio lo decide come come l'ha fatto per fare questa sessione sa che i suoi obiettivi sui desideri possono esserci sia sulla parte del desiderio quindi emotiva mentale ma anche che possono essere realizzati quindi loro si mettono vicine si mettono insieme a che fanno parte di quest'unica entità unità ecco per farle capire che non ha più bisogno di farsi male da qualche parte per fermarsi e lasciare fare a qualcun altro cioè non ha più bisogno che il corpo fisico le ricordi di mettersi in pausa e di lasciar fare agli altri ma che se lo vuole lei lo 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 fa loro quindi la psa e la pia insieme le dicono questo di portare sul lato pratico quello che sono i bisogni quindi di iniziare da che chiude il collegamento con noi di iniziare a mettere nel lato pratico quello che è quello che desidera iniziare a metterlo nel concreto ok come la vedi contenta la vedo contenta la vedo molto leggera molto leggera perché vedo che ha capito ha capito almeno adesso almeno adesso è con e disconnessa dalle entità mentali collettive con queste condizioni ultima battuta domani incontro a un cagnetto un cane che abbaia si nei suoi confronti che succede non si gira va avanti perfetto abbiamo finito quindi stefania disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo alla prossima